si vedono diversi ma siamo abili nel cinema anche nel conquistare le belle donne dici sempre cose fuori luogo ma che sentono alle donne che sentono 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 comunque da maggio vi aspettiamo al cinema con tutto può accadere nel villaggio dei miracoli noi siamo abili nel villaggio della lusata a me sembra vero la pubblicità di dici come un va bene l'estis